Facevo teatro da quando ero piccolo, 15 anni, pensavo appunto di aver inventato il teatro nel mio paesello calabrese. In anni, siamo negli anni Ottanta, in cui comunque la televisione dava qualcosa di teatro, per fortuna a quei tempi, però sempre poca roba. Mi ricordo che entrare al teatro studio, già per me, entrare in un teatro, un tempio, per me era un tempio, una cosa di una bellezza che non ho mai più rivisto in nessun altro teatro. Quel teatro mi diede l'impressione di essere parte di quello che stava succedendo e mi ricordo che vedi una mongolfiera. A un certo punto dico come scusa, ma aspetta un attimo, c'è una mongolfiera, c'è una botola, una mongolfiera che saliva, luci, cose, ma dove sono io? Dove sono? E poi a un certo punto vedi un signore con i capelli d'argento che saliva dalla mongolfiera a dire, porca puttana, vaffanculo. Si era impigliata la mongolfiera e non riusciva a salire. E le madonne, io dico, ma che sta succedendo? Era Giorgio Streler, il mio futuro maestro, ma era già mio maestro in realtà, perché io rimasi incantato da quanta verità poi c'era in quella finzione, ecco diciamo, in quella finzione che però era ipnotica. E quando ho cominciato a capire un po' proprio cosa volesse dire veramente fare teatro, ecco lì ho capito la mia strada. Gli insegnamenti di un maestro non è che poi sono sempre specifici, c'è nel senso che sono vari. Diciamo che da una parte c'è l'insegnamento artistico, ok? o l'insegnamento, diciamo, dell'arte teatrale. E in quel caso chiaramente, sai, se cerchi qualcosa dentro di te e dici io vorrei, vorrei, non so cosa, poi quando lo trovi lo riconosci. Lo riconosci subito, c'è stato un riconoscimento, diciamo, da una voglia di scoprire che tipo di teatro magari volessi fare io nella vita o dare un significato al mio voler fare teatro. e lì il significato c'era già. Perché non solo l'ha insegnato ad avere, ad essere, diciamo, a parte la messa in scena, ma servitore dell'autore. Ecco, questa è una cosa che mi è rimasta impressa, che diceva sempre il maestro. Cioè il fatto che sì, bisogna interpretare un autore, ma in un certo qual modo bisogna essere servi di quest'autore. E poi la cosa che, diciamo indirettamente, ma molto diretta, diciamo, che ho avuto come insegnamento è il senso di appartenenza. Ecco, queste sono cose che sono talmente più alte anche dell'arte stessa, avere un senso di appartenenza, un senso di appartenenza umano. Alla fine cosa siamo passati a fare, no? Anche il maestro che è passato così come un lampo su questo mondo, a noi ha lasciato delle cose preziosi, che magari noi portiamo in giro, noi che siamo stati su allievi, portiamo in giro nel nostro piccolo mondo e cerchiamo di farne tesoro. L'abbiamo vissuto nel periodo, diciamo, ultimo, non so dire se è il più bello o meno. Diciamo che di solito lui diceva questo, che l'ultimo spettacolo è sempre quello più bello, quello migliore. Quindi posso dire anch'io che forse l'ultimo strenere magari, diciamo così, giusto per darci felicità, è che magari era quello era quello migliore, non saprei. Però diciamo che noi lo abbiamo vissuto in quel periodo dove noi eravamo piccoli. Io vedevo una cosa molto interessante, cioè la voglia di lavorare con i giovani. Lui aveva proprio questa voglia, questa voglia innata, forse perché magari non aveva figli, non so, forse perché magari vedeva in noi già una prospettiva di futuro, una prospettiva di dire sì, io devo attecchire, devo lasciare qualcosa, forse loro sono quelli che un domani giustamente, ecco. E quindi con noi parlava volentieri e magari perdeva anche ore di tempo magari a spiegarci, a dirci delle cose. E io ho avuto la fortuna di fare pure l'arlecchino, ecco, l'arlecchino penso che sia una cosa allucinante. Io credo che forse nella storia del teatro mondiale credo che non esista una cosa del genere. C'è Goldoni che è l'autore e c'è Streder. Ma di solito quando mori il regista rimane l'autore, perché poi dopo tutti interpretano quel testo, no, Pirandello, non saprei, Brecht, Shakespeare. No, questa è forse l'unico caso al mondo dove va in giro dopo la morte è la regia di quello che è morto. Cioè, questa è una cosa che io ho sempre detto, ma è possibile. Ecco, c'è una cosa che dovrebbe far riflettere tutti oggi, dovrebbe dire, ma vedi che se si agisce in un certo modo le cose poi rimangono, non per retorica della vita, perché magari uno può dire che palle però, sai, poi si cambia nella vita, si va avanti, si cambiano le cose, sì, ho capito. Ma le cose che però, il Colosseo che resta, la piramide che resta, non può essere retorica, cioè è una piramide che resta ancora qualcosa di sconosciuto, perché altrimenti non resterebbe, che ancora dobbiamo scoprire, sicuramente qualcosa di misterioso che dobbiamo scoprire. Ecco, penso che lui ci abbia lasciato questo mistero, il mistero della sua essenza in questo spettacolo, perché va in giro la regia, una regia, non va in giro il testo, va in giro quella regia, quella messa in scena. Lui mi volle nell'arlecchino, io ero sempre là vicino, io qualsiasi cosa, purché c'ero, ecco, perché ero una spugna in quel periodo. E io faccio la regia, dicono, no, no, tu, tu, tu fai il capocameriere. Dico, vabbè, va allora, il capocameriere, facciamo la scena. Mi guardo, mi fa, no, aspetta, tu dove sei? Calabrese. Ah, calabrese, vabbè, ma scusa, ma perché non reciti in calabrese? Mi metto a recitare in dialetto e lui comincia ad andare in delirio. Certo, però qua dobbiamo fare qualcosa alla faccia, così. Vabbè, prendi del sughero, mi prendo del sughero, abbiamo messo il sughero, una candela, e mi hanno fatto praticamente, mi ha fatto tutto nero. Io non capivo, dico, ma perché non mi fanno mettere tutto nero? Io avevo però dopo capito, cioè che lui ha avuto un'immagine in quel momento, perché dovevamo pure interpretarlo, non era facile. Insomma, mi faccio sta cosa qua e ho capito che io ero una maschera a quel punto. Comincio a recitare il dialetto mio, io all'inizio ho avuto un po' di terrore di questa situazione qua, perché eri come un dialetto mio, io sono qua, cioè non voglio recitare il dialetto. Avevo un attimo, no, sai. Però ho detto, vabbè, un po' mi fuggia da divertirmi. Prima a Milano, vado in scena, entro alla mia parte, il pubblico in delirio. Risate, allucinanti applausi, applausi a scena aperta. Questa cosa mi sorprese molto e diciamo che mi ha fatto un regalo enorme. Penso che il Faust sia stato il lavoro più completo che io abbia mai visto fino adesso. Era enorme. Io lo vedevo vigilante, cioè perché era da tutte le parti. Era in scena, era fuori, mentre era dentro, era fuori. Cioè era un discorso che poi erano tutti, come eravamo tanti poi nel Faust. Oltretutto lui aveva una paranoia, che era essere attore. Anche lui si viveva il personaggio, in quel caso come raccontare il proprio personaggio, anche perché doveva stare attento a tutto. Non era facile. E anche se in un certo qual modo fu criticato, io invece penso che era un grande Faust, a un certo punto. Lo dico sinceramente. Perché era sincero. Anche perché era Faust, ma anche era Streller e quindi c'era questo transfert, in un certo qual modo, di uno che vuole arrivare al limite dei saperi, della conoscenza. E' lui che vuole arrivare al limite della conoscenza del teatro. Perché non è stai mettendo in scena un'opera teatrale. Si sta mettendo in scena un'opera che non è teatrale. Un'opera letteraria, diciamo, ok? Se così vogliamo dire. E' un qualcosa che va al di là. Diciamo un testo, come possiamo chiamarlo, lirico, in alcuni aspetti. Un testo poetico, un testo ostico, difficile a livello proprio di scrittura. Ecco, e lì si parla di alchimia, in un certo senso. E quindi di muovere e di manipolare la materia. Ecco, in quel caso il regista manipola la materia. In quel caso Faust vive, attraversa dei mondi, che sono dei mondi aperti con una chiave esoterica. Anche se possiamo metterci anche nella questione mistica. Cioè, avere a che fare con una materia invisibile, un'energia invisibile, un qualcosa che comunque noi rendiamo visibile. Ecco, lui credeva prontamente in questa cosa. In tutte le sue lezioni, io mi ricordo che comunque dietro i suoi ragionamenti c'era sempre un discorso di sopravvivenza di qualcosa. Per cui credo che questo testo qua, questa opera, questa sua fatica sia stata anche molto molto intima. Ed è un paradosso, perché il posto è tutto fuorché intimo, era molto circondato da tutto un insieme di immagini molto forti. Ecco anche lì, il linguaggio. Ecco lì io ho capito il teatro musicale, ho capito il teatro totale, corale, di immagini, visionario di Strele. Io mi ricordo che c'era il macchinista che si era dimenticato di chiudere il sipario nel tempo giusto. Ragazzi, questa è una scena che non la dimenticherò mai. E Strele, una volta chiuso il sipario nel tempo sbagliato, da dietro le quinte, al macchinista. Ti ammazzo, porca miseria, io ti ammazzo. Si apre il sipario. Io ero dietro lì, ringraziavo, mi stavo sconfisciando alle risate, mentre gli altri, un po' tutti terrorizzati, io morivo da ridere. Perché io vedevo quest'uomo che era, che non poteva accettare questa piccola, uno spettacolo tra due, tre ore, una piccola cosa venuta male, perché si era chiuso, non i secondi giusti, il sipario. Quindi una cosa infinitesimale, ma lui era veramente arrabbiato. Io penso che era impossibile anche andare a vedere uno spettacolo con Giorgio Strele, secondo me. Perché poi a un certo punto, non credo che vedi più lo spettacolo, ma ascoltavi Giorgio Strele che diceva, una cagata, questa non va bene. Ecco, quello avrebbe dovuto dire questo. Quindi era impossibile, era impossibile. Era una lotta continua, secondo me, intestina, perché a volte si allontanava, giustamente, perché era, doveva respirare un po'. Cioè lui prendeva una bocca d'aria fuori effettivamente, perché dentro era in apnea continua, no? In questo senso. E poi ho fatto sì, ho fatto, ho fatto i giganti della montagna, come mio primo spettacolo appena diplomato. E abbiamo provato al teatro studio per molto tempo, per poi farlo al teatro lirico, all'epoca c'era il teatro lirico come teatro, diciamo, italiano più grande del piccolo. Oggi c'è il nuovo teatro, insomma. Questa è la mia prima esperienza e feci una bellissima tournée, andammo in America. Cioè, quindi questo. Con Streler. Con Streler al BAM teatro di Brooklyn, con Streler che facciamo le prove lì, e lui che doveva inventarsi qualche cosa, e allora abbiamo fatto due ore di prove con dei sagomatori colorati, dove aveva fatto una luce rossa, una luce verde e una luce blu. E poi mise queste luci sul sipario di ferro, perché c'era un tagliafuoco, praticamente, al gigante della montagna, perché doveva rompere questo garretto. E mi ricordo che lui doveva inventarsi qualcosa, perché di creativo, in un certo senso, perché lo spettacolo era già fatto tutto. Allora diceva, ma che cosa faccio, cosa faccio? E si inventa st'inizio, con queste tre luci. E si inventa questo trittico di luci. Poi ho capito, dopo un po' di anni, insomma, che lui ricercava, ricercava anche in quel momento, una questione estetica. Che però, per il maestro, non è mai stata fino a se stessa. Nel senso che c'è chi, tramite una profondità, arriva a un'estetica. E c'è chi, tramite un'estetica, arriva a una profondità. Ecco, diciamo che a lui, forse, la cosa che gli piaceva di più era questa, cioè dall'estetica arrivare poi a una profondità. Questo però non toglie il fatto che alcune volte dalla profondità arrivasse all'estetica. Giocava tra queste due impianti, a seconda dell'autore che si trovava davanti. Poi ho fatto finalmente l'anima buona pure, ecco, tra l'altro. Desideravo tanto fare il Brecht e finalmente è venuto fuori questa cosa per un caso. Perché, praticamente, io dovevo fare Lavaro di Molière. Avevamo facendo Lavaro di Molière con Paolo Villaggio. Solo che purtroppo in quel periodo il maestro stava vivendo una situazione un po' difficile, sia a livello personale di salute, ma anche a livello proprio totale, in generale. Era molto deluso dal teatro italiano, era deluso dai politici italiani, era deluso da Milano, era deluso da tutta una serie di cose, tant'è che scrive una lettera dicendo che io mi dimetto da italiano. Per cui, alla fine, insomma, per un motivo per un altro, Lavaro non si fa più. Allora a quel punto Molière diceva, beh, riprendiamo l'anima buona ed ero felicissimo di farlo perché l'avevo visto in video, avevo visto, però sai, poi vederlo dal vivo è tutta un'altra cosa. fatto al teatro studio, quindi proprio il luogo suo, perché sai, poi c'è un palcoscenico girevole, quindi sai, in un posto dove c'è un cerchio, no, perché lì siamo in un teatro energeticamente molto forte, e quindi con questo, guarda, era il posto suo, cioè inutile. Sì, vabbè, il teatro italiano va benissimo, ma quello era il luogo suo, e lui partirà, sei saltatissimo. E mi ricordo che ha messo un aeroplano in mezzo che era conficcato, diciamo come conficcato per terra, beh, lì c'erano delle cose molto, molto, sebbene fedele, ovviamente, a una ripresa, insomma, chiaramente, però con molti cambiamenti, perché chiaramente lo spazio poi ti dà, sì, ti cambia tutto. Ci teneva tantissimo e amava sia lo spettacolo e sia l'interprete, devo dire, perché per quanto magari era un periodo in cui c'era Maretta fra di loro, si erano, insomma, allontanati, diciamo, però io a lui lo vedevo innamorato, io, ma no, almeno io, cioè, ma magari innamorato, sì, innamorato, innamorato di quella entità, chiamiamola così, no, quella entità attrice che riusciva a far venire fuori quell'altra entità, erano tre in realtà, era l'attrice Shente e Shuitace, quindi siamo nel trittico brechtiano, proprio nella scuola brechtiana totale, e lui era completamente, totalmente preso da questa cosa qua. Lì era proprio felice, felice come l'avevo mai visto, era felice di fare quello spettacolo, secondo me, un po' l'eredità, ecco, è il senso d'appartenenza, io penso che questo sia la cosa più importante, perché dietro lo senso d'appartenenza ci sta tutto, ci sta appunto una poetica, ci sta dietro un lato umano e un lato politico, la politica intesa come sociale, cioè, come il fatto, no, di dire, di, non dico insegnare, però dare delle linee guida a come magari una società si può muovere a livello culturale, per esempio, no, e anche in altri ambiti, cioè il teatro deve diventare faro di un insegnamento totale, che non di nicchia solo a quelle persone che conoscono gli autori o che conoscono quello, che conoscono quell'altro, poi vado, mi sollazzo, vado, vado a un teatro, mi diverso, ciao, buonanotte, andiamo a casa. Mi domando in questo periodo cosa avrebbe fatto Estrella, mi domando spesso, non sarebbe stato in silenzio, non avrebbe fatto cose così, di fatti fece madre coraggio di Sarajevo, come faro si intende questo, cioè, dove io posso andare a assorbire degli insegnamenti che non sono ben solcati, cioè, non c'è una traccia forte di questo, devono essere delle tracce, come dire, simboliche, perché i tempi cambiano e non possono le regole essere sempre uguali, però delle cose restano sempre uguali, delle cose restano sempre quelle, l'animo umano, il genere umano, come ci muoviamo noi, restano sempre quelli, il ritratto dell'essere umano è quello, il teatro umano, quindi, il teatro politico e il teatro poetico, in questo trittico che secondo me sono il succo di un insegnamento, è un qualcosa che deve rimanere, se non nelle quattro mura di un qualcosa di fisico, almeno nelle quattro mura dentro di noi, questo mi ha insegnato il maestro, e io nel mio piccolo, per parafrasare, porto avanti la mia vita, e la sto portando avanti con un gruppo di persone che conobbi appena dopo la morte del mio maestro, perché poi c'è stato un vuoto, un vuoto vero, e quando c'è un vuoto poi due sulle cose, o affondi o rinasci, come la fenice, insomma, e allora in quel caso lì decisi di rinascere, nemmeno forse io consapevolmente, magari la vita che poi ti dice che devi rinascere in qualche modo, e decisi di non fare più teatro, come attore di giro, andare a fare questo, io ho scelto un maestro, nel momento in cui questo maestro è morto, è rimasto dentro di me, perché i maestri non muoiono mai, non possono morire, si evolvono, e quindi si è evoluto dentro di me, per cui non tanto, sì, anche per essere superati, perché diciamo che bisogna tradirlo il maestro a un certo punto, è un fatto questo, è solo per amore che l'ho fatto, allora io ho avuto un amore, un secondo amore, diciamo, che è un teatro, una compagnia che ho fondato appena nel 98, cioè quindi stiamo parlando, il 97 è morto il mio maestro, il 98 io fondo questa compagnia, diciamo all'inizio un po' così, poi dopo piano piano si è solidificata, e ho fatto un discorso proprio con questi tre insegnamenti forse nel mio territorio, nella Calabria, l'Università della Calabria in particolare, dove magari molte cose non c'erano, e lì ho dovuto fare un po' da pioniere, insomma, un po', per cui educare un po' il pubblico, i giovani soprattutto, io sono sempre in contatto con ragazzi, perché all'interno dell'Università, poi è chiaro che c'è un ricambio continuo poi di gioventù, di nuove idee, di nuovi sapori, di nuove emozioni, di creatività, di fantasia, di saperi soprattutto, e quindi diciamo che ho trovato il modo migliore forse, ecco, per me, di rendere giustizia, ecco, a un insegnamento, che deve essere sempre vivo, io cerco di tenerlo sempre vivo, che ripeto, non significa sbandierarlo ai quattro venti, anche perché a volte certe verità non possono essere dette.